Tutto esaurito al Palacardella per sostenere le arpie di Coach Kokuzza nella sfida casalinga di Sabatro contro Ferrara. Una partita agilmente condotta dalle padrone di casa, incisive sia in difesa che in attacco. Nella prima frazione di gioco gli attacchi delle ospiti sono stati rispediti al mittente grazie alle parate della Berkic e nel finale dalle reti della Mirkiki. Nel secondo tempo doppie cifre di vantaggio per le ricine che nel finale affondano il colpo di grazia con i gol di Storosuk e di Landry. 36 a 22 il risultato finale. Ascoltiamo le parole di Valentina Landry nel posgara. È stata una partita che abbiamo preparato molto dopo la sconfitta a Salerno. Sono state due settimane intense anche se due atleti sono stati in nazionale. Ci siamo preparate molto, stiamo puntando molto a lavorare sulla difesa e gioco veloce. Il roster è molto ampio e ci sono tante giocatrici nuove. Per il mister è un duro lavoro. Abbiamo tutta tanta voglia e dobbiamo lavorare tanto. Sto ancora, se mi posso paragonare alle marce della macchina, alla seconda. Voglio lavorare tanto e voglio dare tanto a questo club, a questa società, a questi tifosi straordinari. Credo che dopo il quarto anno di questa società ai massimi livelli è arrivato il momento di iniziare a raccogliere qualcosa.